Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. In direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra il Bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia. Siamo sul versante Emiliano della Direttissima. Ina 15, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per lavori di raddoppio ferroviario fino al 31 agosto, circolazione dei treni sospesa tra Pistoia e Montecatini Terme sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!